Vacanze estive in Sicilia Scegli Luglio e prenota subito la tua casa al mare al prezzo migliore Goditi tanto mare, sole e relax tra i panorami più suggestivi e le spiagge più incantevoli della Sicilia sud orientale Vieni a visitare Marzamelli, l'affascinante bordo di pescatori dal panorama mozzafiato O San Lorenzo, dove non si può che rimanere incantati dalla limpidezza del mare e dal colore della sabbia O Portopalo, servita cittadina che ti offre panorami unici e incantevoli e una riviera che alterna spiagge sabbiose a scogliere Se invece desideri mete tranquille e soggiorni rilassanti Scegli Granelli, dove potrai trovare tutto lo splendore della natura incontaminata Oppure Notomarina, nota per la spiaggia di finissima sabbia di colore giallo-oro e punto strategico per raggiungere velocemente i meravigliosi litorali di Calamosche e l'oro e Benidieri O ancora Marina Diavola, con i suoi servizi e le sue sabbiose spiagge vicine ai suggestivi laghetti di Cavagrande e alle bellezze di Siracusa Prenota subito il tuo soggiorno, a luglio ti conviene e porta con te anche i tuoi amici a quattro zampe